segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e qui come vedete il trend è simile anche rocca francesco rocca che antonio padellaro ha un lacrimone perché è aumonio di uno dei suoi calciatori preferiti ex presidente della croce rossa italiana e internazionale il candidato del centrodestra voluto da giorgia meloni è attorno anche lui alla maggioranza assoluta con quella stessa constatazione che facevo prima un candidato quindi tecnicamente imbattibile per numero di voti anche ci fosse stato un candidato unico forse e poi di sempre dipende dal candidato unico avversario ovviamente e per quanto riguarda damato e bianchi è davanti damato candidato come si sa del pd era assessore a proprio la sanità della giunta regionale guidata da zingaretti è supportato dal pd e dal terzo polo davanti a donatella bianchi che è la candidata del movimento 5 stelle